Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Rune Terra. Oggi andremo a vedere un mazzo control, il primo dopo la nuova patch. I protagonisti di questo mazzo sono Lux ed Emerdinger. Andremo a sfruttare la nuova meccanica dei cercatori, che sono stati fortemente reworkati nell'ultima patch. Quindi le spell a 6 saranno le protagoniste del nostro mazzo. Spell a 6 che ovviamente vanno subito in combinazione con la quest di Lux e in qualche modo anche con quella di Emerdinger. Andiamo a vedere il mazzo. Eccolo qua, Endemasia l'ho chiamato in onore del landlock di Airston. Abbiamo un buon equilibrio tra Demasia e Piltover, perché andiamo a scegliere queste due fazioni? Perché entrambe hanno una carta a 6 attivabile in qualunque caso, ovvero una spell a 6 che mette un pezzo in gioco. Per Demasia ovviamente, che ha la più forte in realtà, è Ricordo. Per Piltover è Innovazione. Abbiamo la necessità di avere a turno 3 sempre 6 mana open per poter giocare una spell a 6 ed attivare poi tutto quanto il mazzo, perché poi abbiamo l'istigatore a turno 4, volendo anche se non peschiamo l'istigatore possiamo comunque giocare il persuasore. E' importantissimo però giocare la spell a 6 a turno 3, quindi non vi fai tentare, non giocate cose a turno 1 e turno 2, mi raccomando. Se proprio non peschiamo la spell a 6, per cui comunque sia cerchiamo di fare un mulligan sempre molto aggressivo, alle brutte possiamo anche giocare un raggio termogenico da 6 mana su un pezzo avversario che comunque sia ci attiva poi tutte le meccaniche. Per il resto tante spell a 3, perché sono le spell più forti sia per attivare la quest, Lux, due spell a 3, attivano un raggio, sia soprattutto per Emerdinger, perché dalle spell a 3 sappiamo che ascono fuori gli elusivi 3-1, che sono le torrette più forti di Emerdinger. Andiamo a giocarlo. Contro Ezreal. Contro Ezreal insieme a Draven, adesso è molto utilizzata questa combinazione, insieme anche in realtà a Karma a volte, è un mazzo combo, quindi noi dobbiamo comunque essere abbastanza aggressivi. Qui non troviamo spell a 6, quindi al di là di quali carte vediamo, noi le togliamo sempre tutte. Non troviamo spell a 6 di nuovo, abbiamo ancora 3 pescate, speriamo in bene ovviamente, la prima va male, anche lui probabilmente giocherà poco o niente, troviamo finalmente la spell a 6. Andiamo a passare ancora una volta, e adesso arriva il nostro momento. Giove una spell a 6, lui non avendo Ionia non può fare denai, troviamo il pezzo secondo me migliore di tutti quanti, ma lui ce lo uccide subito con il raggio termogenico. Ci sta, va bene così, l'importante è che noi abbiamo attivato le nostre combinazioni, a questo punto aspettiamo di pescare uno di Emerdinger e Lux per giocare sopra di loro. Nel frattempo abbiamo un 6-5 molto forte in realtà. Arriva Emerdinger, va bene, intanto diventiamo aggressivi, 6-5 non può essere ucciso neanche dal raggio termogenico, questi dei danni sono abbastanza certi, a meno che lui non metta qualche pezzo, ok, va a ferirlo, perché vuole ucciderlo con la gigliottina immagino a questo punto. Due carte per una? Va bene così. È vero che lui attiva due volte l'effetto di Ezreal, va bene. Si è salvato da questi 6 danni. Far giocare gli gigliottini in Irly non è male, perché a volte può fare delle combo molto forti questo mazzo che abbiamo contro, perché se fa shock di static, poi uccide entrambi i pezzi, e quello diventa molto pericoloso. Noi adesso giochiamo il persuasore, anche per dare una minaccia. Ci teniamo 3 mana, così il prossimo turno possiamo giocare subito Everdinger e Spell al seguito. Ok, arriva un altro raggio termogenico, l'ha fatto su di lui e non su Everdinger, il che andava più che bene. E adesso lui rimane con soltanto i 6 mana del turno. Peschiamo Lux però noi. Giochiamo Lux noi. Giochiamo Lux perché in questo turno possiamo anche attaccarci a Barrier e non facciamo subito l'Espell, a questo punto aspettiamo il prossimo turno. Aspettiamo di mettere anche Everdinger. Purtroppo non abbiamo pescato Barrier, sarebbe stato ottimo Barrier. Arriva Draven e noi giochiamo a Everdinger. Ok, colpo letale. Colpo letale va bene. Evochiamo comunque una torretta. La giochiamo. A questo punto arriva l'attacco. No, ci ripensa. Ci ripensa. Facciamo così per due motivi. Il primo è che ovviamente uccidiamo Draven, ma il secondo, altrettanto importante, è che leviamo un bersaglio dallo Shock. Ok, a questo punto lui è mana off, noi ne approfittiamo. Andiamo a giocare questo. È vero che perdiamo il raggio, però la evolviamo adesso, che non può giocare nulla risposta. Purtroppo è ferita e quindi la seconda chigliottina potrebbe essere letale. Questo è un ottimo turno per giocare così. Siamo molto aggressivi. E' vero, lui ci può uccidere Lux. Ce ne faremo una ragione, insomma. Invece no. Non ce l'ha per uccidere Lux. E allora, appare la scintilla, quindi lui non può mettere pezzi per contestare. Vedete come comunque sia, riusciamo ad essere abbastanza aggressivi in bordo. Ok. È arrivato uno stun. A noi però non dispiace il fatto di poter utilizzare la scintilla. E comunque sia, poi andiamo a fare altri 4-8 danni. Quindi sono 10 danni a lui che rimane assai contivita. È evoluto Zed. Zeralla, scusate. Il che non è benissimo, però noi abbiamo singolar tensione. Arrivati a questo punto, il persasore non è malissimo. Non c'è motivo di giocare nulla. perché voglio tenermi in mano per fare fianco a fianco. In quanto dovremo fare singolar tensione, ovviamente. E non si sa mai se lui riesce in qualche modo in risposta a ucciderci il pezzo che va ad eliminare Ezreal. Lui ci pensa, ci pensa molto. Alla fine attacca. A noi va bene così. Non lo facciamo prima che lui attacchi, semplicemente perché lui poi può avere un altro Ezreal in mano, giocarlo e attaccare. Ok. Infatti, l'abbiamo fatto bene. L'abbiamo fatto bene ad attendere. Lo giochiamo anche qua al più 3 più 3 perché è così sicura. Gli andiamo ad eliminare Ezreal. E io credo che qua sia finita. Onestamente non vedo come lui possa uscire da questa situazione. Il prossimo turno attacchiamo noi. Abbiamo tre pezzi in campo. Credo che concederà. Nick. E infatti si arrende. Infatti si arrende. L'abbiamo vinta. Molto ben giocata, devo dire, questa partita. Non siamo stati per niente sfortunati anche con le pescate. Anche lui l'ha giocata in maniera abbastanza pulita. Secondo me l'unico dubbio è su quel raggio termogenico a turno 5 che ci ha ucciso il pezzo a 2. Ancora contro Ezreal, questa volta con Freylord. Questo è un tutorial su come battere Ezreal, speriamo. Ok. Non abbiamo la spell a 6, quindi non vi fate ingolosire. Non si diene niente. Tutto via. Deve arrivare la spell a 6. Infatti non arriva neanche così. Pensate se voi vi fate ingolosire dal drop a 4. Arriva Merdinger che non serve a molto. Arriva lo shop di static che non serve a niente. Ok. A questo punto l'unico modo per giocare una spell a 6 è effettivamente quello di fare il raggio termogenico. noi non lo vogliamo fare. Accettiamo di passare il turno. Lui se vuole può giocare l'altro poro, non lo fa. E noi finalmente troviamo la spell a 6. Ottimo. Anche qua arriva il raggio termogenico. Va bene. Quanto meno abbiamo giocato la spell a 6. Wow. Va bene. Questo è un buon momento per fare per fare Merdinger perché lui non ammana. Accettiamo questi 3 danni. Attacca anche con il poro. No. Non mi metto a 2 punti vita che poi vado sotto Mystic Shot. Cominciamo con le spell. L'obiettivo ovviamente è prendere i 3-1 con ilusivo. Ok. Lui vuole ucciderci Merdinger. E che facendo barrier lui va potrebbe farci la spell a 3. Va bene così. Va bene così. Ci teniamo questo mana. Non lo vogliamo utilizzare. Attualmente Merdinger è l'unica nostra fonte di danno. non possiamo permetterci di perderlo. E lui brucia una carta. Wow. Ok. Lo facciamo così. Ci è rimasto male. Ci è rimasto male perché ha bruciato la carta. Allora noi abbiamo 10 mana. Possiamo fare così. Vedere lui cosa gioca. Perché magari gioca un poro migliore di quello che c'è attualmente in campo. Ok. Però attenace al poro migliore. Quindi non lo possiamo uccidere. Dobbiamo fare così. È inutile tenerci più di tanto mana perché noi abbiamo un barrier. Quindi possiamo salvarci una volta il nostro Merdinger. Ne gioca un altro di poro. Noi giochiamo la nostra torretta. Torretta che viene brutalmente eliminata. E poi così ne passiamo. Tre mana ci teniamo sempre. E attenzione perché alla fine arriva Lux. Lux è un'ottima carta. Adesso non dobbiamo per forza far sopravvivere Merdinger. Purtroppo non abbiamo mai pescato il Flash. Che è una carta ottima con loro in campo. Preferisco fare così. Teniamo tre mana almeno. Ok. Questo non ci va bene. Ok. È out of mana finalmente. Possiamo sfruttare al nostro vantaggio questa situazione. Ok. Lui l'unica cosa che può fare è raggio termogenico a 1. Va bene. Ok. Fa raggio termogenico a 1. Ci uccide Lux. Rimane vivo. Merdinger. Che si evolve. E abbiamo lui che fa così. Lui che attacca così. E lui che attacca così. Non ci dispiace neanche perderla questa torretta perché ottura la situazione in bordo. Il problema è che lui sta a 7 su 8. 7 su 8 è pericoloso. Ok. Altra spela 3. Peccato che continuano a non arrivare a spela 3 che ci piace di più di tutti. Ovvero il Flash. Ok. Buono che siano due di costituzione adesso. È più difficile che ce li uccida. Va bene. Lui accettiamo la sua di partita. Siamo bene così in realtà. Se lui non ha altro da fare. Hai altro da fare? Ha altro da fare. Questo per noi è ottimo. Stavo aspettando soltanto Ezreal. E Ezreal direi che lo andiamo ad eliminare. Possibilmente. Possibilmente. Questi danni entrano. No. Non ci uccide. Pensavo ci potesse uccidere in qualche modo Merdinger. Ma non ce lo può uccidere. Arriva il Poro Temibile. Il Poro Temibile. Allora noi abbiamo. 5, 9, 14. Noi dobbiamo vincere questo turno. Dobbiamo vincere per forza questo turno. Quindi facciamo. Così. Così perché così andiamo a prendere dei pezzi. In realtà attualmente sembra che non possa essere giocato il pezzo prelusivo. Lui gioca il Poro. A me va bene il Poro. Noi giochiamo così. Va bene. Va bene comunque che muoia lui. Andiamo a mettere anche questo. Lui lo facciamo fuori così. A questo punto. Uno para lui. Questo non può essere bloccato. Questo non può essere bloccato. Uno parrà sicuramente questo qui. L'altro questo. Ne passano il 5, 9, 11. Non sono ancora abbastanza. Se ne uccidiamo uno. Comunque sia. Lui andrà a parare 10 danni. Quindi ne passerebbero 9, 12, 14. Che non sono abbastanza comunque. Qui tanto vale fare così. Grab qui. E in caso uccidiamo Ezra in risposta. Se lo mette. Ok. Va bene. Ci congela quelli che stanno entrando. Quindi sono molti pochi i danni. Abbiamo rimosso tutti quanti i suoi difensori. Quindi diciamo che lui deve vincere al prossimo turno. Perché altrimenti poi questa board. Provocherà gli stessi danni che ha provocato adesso. Va a pescare tanto. Mi salvo lui. Non mi interessa salvarmi anche lui. Perché mettiamo la bot rivella. La famosissima bot rivella. E va bene. Andiamo a picchiare. Sono giorni che meniam. Vediamo se basta. Lui ne può frizzare 2. Se ne frizza 2 sono 4, 8, 11, 13. Un off. Un off purtroppo. Va bene. Più di un off. Ok. La partita si sta sviluppando in maniera diversa dal previsto. Devo dire. Adesso noi abbiamo un piccolo problema. Perché abbiamo due modi per ucciderlo. Ezreal. Però il secondo modo non può essere utilizzato subito. Quindi ne facciamo. Così. Abbiamo la possibilità di fare un barrier. Se lui ce l'ucide risposta. Vediamo se però lui ha la lead. Non ha l'ital evidentemente. Perché ci spara sul pezzo di risposta. Questo è molto buono. Promette molto bene questa cosa. Vediamo se è un altro sparo. Però oddio se è un altro sparo. L'avrei tirato tutti e due in faccia onestamente. Va a fare il freeze. Va bene. Poi tocca a lui. Che non può attaccarci. Perché abbiamo il pezzo con illusivo. Il pezzo con illusivo che ci uccide. A noi va benissimo questa cosa. Noi gli uccidiamo il suo di pezzo. Direi così. Mettiamo un T-Rex. Un misplay clamoroso da parte sua. Ci aveva sicuramente ucciso. Invece di sparare il botto sul 5-2. Vabbè. Ma a noi ci interessa il giusto. Insomma. Speriamo che non venga premiato topdeccando l'Ital. Non se lo meriterebbe onestamente. Ok. E lo sparo. No. L'Ital sicuro. L'Ital sicuro. Nel mazzo ha ancora 4 spari. Basta che... Invece no. Invece no. Grande vittoria. Meritato. Meritato perché lui ha mistato l'Ital. Meritato. Meritato. E questo va nel video per forza. Abbiamo fatto due partite con Ezreal. Pazienza. Bene ragazzi. Un po' monotono forse l'avversario. Però almeno abbiamo visto in maniera molto approfondita in realtà come gioca il mazzo. Alla fine questo mazzo gioca molto più sul suo gameplay rispetto a quello dell'avversario. Quindi a prescindere da chi abbiamo contro tendenzialmente le giocate fino al turno 5-6 sono sempre le stesse. Poi ovviamente cambia a seconda del mazzo che abbiamo di fronte. Comunque sia spero che questo mazzo vi sia piaciuto. A me sta piacendo molto. Siamo ritornati in top 100 durante i test del mazzo in realtà. Quindi sta funzionando molto bene. Io vi lascio come al solito tutti quanti i link in descrizione per i miei social. Ci vediamo tutti i giorni verso le 4 e mezza in live. Tra l'altro stasera, perché questo video uscirà lunedì, ci sarà sul canale di Croex89 un torneo molto divertente. È su Erson, non è su Urnaderra, però io vi invito a venirlo a vedere e a tifare per me in ogni caso. Ci vediamo nel prossimo video. Buon game a tutti.